Ciao, sono Luca e lavoro in Apulio Hotel nell'ufficio Prontazioni. Finalmente l'estate è partita e come ogni anno il nostro obiettivo è farvi fare delle vacanze senza pensieri. La nostra vacanza senza pensieri vi permette di cancellare fino a 15 giorni prima è essere rimborsati dell'intero importo che lasciate come acconto. Se invece cancellate dopo i 15 giorni vorrà dire che la nostra vacanza è semplicemente rimandata al 2021 perché l'intero importo sarà utilizzabile per tutto il 2021. Non dimenticate che c'è anche il bonus vacanza e che tutte le strutture Apulio Hotel lo accettano. Contattateci telefonicamente via email per avere un preventivo senza impegno. Non vi resta che pronotare, vi aspettiamo.